Quando parliamo di essenzione, parliamo di un'esenzione dal ticket, quindi dalla compartecipazione alla spesa pubblica che il cittadino deve sopportare quando ha una patologia. Il riconoscimento di questa patologia, quindi l'inserimento tra le patologie croniche, l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, fa sì che la patologia abbia diritto ad un'esenzione dal ticket. Il riconoscimento è importante perché permette alla persona di avere una patologia che è riconosciuta e quindi ha anche una sorta di dignità di patologia. Pensate a quante persone sono affette da patologie ancora non riconosciute che non vedono a quel punto alcuna via d'uscita per far sì che la propria patologia abbia una dignità di esistenza.